Assicurare una politica di sicurezza sul territorio non significa solamente contrastare quei fenomeni insopportabili come il commercio abusivo, l'accattonaggio molesto, i campi non autorizzati o i bivacchi, ma anche e soprattutto recuperare quelle zone degradate della città, illuminare quegli spazi bui e soprattutto tenere pulite e ordinate le nostre strade, assicurando tranquillità, serenità, vivibilità a tutti i civitanovesi, perché dove c'è sicurezza c'è anche benessere, c'è turismo, c'è lavoro per tutti. Noi sappiamo come farlo e noi siamo determinati nel farlo.